salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito oggi parliamo ancora di un accessorio auto ma questa volta di un accessorio un po diverso dal solito sì perché parliamo di lui hdmi streaming box cos'è ragazzi è un piccolo dispositivo che ci permette una volta collegato la presa usb della nostra auto e andando a collegare a lui al suo ingresso hdmi in qualsiasi dispositivo che abbia appunto un'uscita hdmi quindi che sia un iphone 15 pro o i vari dispositivi android che comunque dalla loro presa type c possono uscire con un cavo hdmi potremmo utilizzando appunto lui vedere tutto quello che abbiamo nel nostro smartphone nel sistema multimediale della nostra auto quindi potremmo usare qualsiasi applicazione abbiamo all'interno del nostro telefono sì perché nostro telefono verrà duplicato nel sistema multimediale nostra auto quindi nello schermo touch della nostra auto un po come se lo colleghiamo al televisore stessa cosa che comunque se colleghiamo il nostro smartphone o tablet che hanno l'uscita hdmi al nostro televisore vediamo appunto il nostro smartphone il nostro tablet e il nostro pc nel televisore questa è la stessa identica cosa ovviamente gli iphone non sono solo i 15 pro e 15 pro max che hanno la presa type c e quindi possiamo utilizzarla come uscita hdmi mentre per i dispositivi android lì il mondo è molto più ampio perché praticamente quasi tutti i dispositivi android hanno la presa type c con uscita hdmi disponibile e questo ci dà la possibilità di vedere tutte le applicazioni di streaming video quindi immaginate netflix piuttosto che amazon prime piuttosto che rai play piuttosto che discovery tutte queste applicazioni dedicate allo streaming video ci darà la possibilità se abbiamo ovviamente l'abbonamento per quanto riguarda rai play o discovery che hanno tanti contenuti gratuiti li potremmo vedere direttamente nel sistema multimediale della nostra auto però ovviamente questo non deve essere una distrazione per la guida questo deve essere utilizzato in determinate situazioni quando siamo in coda in autostrada nelle code infernali quando siamo fermi in un parcheggio per esempio quindi siamo comodi ce lo vediamo nel display della nostra auto sentendo l'audio nell'impianto della nostra auto questo diventa una cosa veramente molto molto utile da utilizzare in queste situazioni l'unico difetto che ha o meglio non è un difetto suo un difetto che alcune applicazioni tipo now blocca l'uscita hdmi ma questo anche se lo colleghiamo alla televisione ci dice che non possiamo trasmettere i contenuti tramite hdmi in un televisore piuttosto che in qualsiasi altro schermo ma questo è proprio il limite di now che blocca stessa cosa per sky go queste applicazioni bloccano mentre mentre amazon prime netflix rai play apple tv youtube tutte queste applicazioni funzionano senza nessunissimo problema perché non bloccano la trasmissione video nell'uscita hdmi dall'applicazione quindi ragazzi capite che questo dispositivo veramente molto molto interessante all'interno della confezione troviamo lui il piccolo carlin kit hdmi adapter ragazzi guardate che dispositivo veramente super compatto dopodiché troviamo un adattatore type c usb perché nel caso la nostra auto non abbia la presa usb o la presa usb magari già occupata da un qualche altro dispositivo o qualsiasi altra cosa e abbiamo una presa type c libera potremmo utilizzare la presa type c con il suo adattatore quindi questo poi dipende dal tipo di auto tipo la mia auto non ha nessuna presa type c quindi utilizzerò solo la presa usb lui lo trovate direttamente nello store carlin kit vi lascio qua sotto il link in descrizione il suo prezzo è di 85 dollari ma con il coupon sconto che vi lascio sempre qua sotto in descrizione abbassate il prezzo di 30 dollari quindi questo piccolo dispositivo che vi permette di vedere qualsiasi cosa trasmessa in hdmi nel display della vostra auto verrà a costare 55 dollari quindi veramente uno sconto importante e poi una cosa che vi ci tenevo a segnalare che per utilizzare questo dispositivo la vostra auto o meglio il sistema multimediale della vostra auto deve essere compatibile di fabbrica cioè deve uscire già di fabbrica compatibile con apple carplay o android auto se il sistema multimediale della vostra auto non è compatibile con questi due sistemi è inutile che lo acquistiate non funzionerà funzionerà solo se il sistema multimediale della vostra auto è già predisposto per apple carplay o android auto per utilizzare i dispositivi con uscita type c tipo lo smartphone in questo caso io utilizzerò un iphone 15 pro max che ha l'uscita hdmi per fare questo serve un adattatore come questo da che non costano tanto costano pochi euro magari ce l'avete già perché già magari collegavate il telefono al televisore quindi abbiamo da questa parte type c e da questa parte una femmina hdmi e poi andrò a collegare un cavo classico hdmi che collegherò poi da questa parte al mio carlink kit però esistono anche cavi già con il maschio hdmi quindi type c e da questa parte anziché avere la femmina hdmi avremo il maschio hdmi quindi eviteremo il fatto di andare a collegare due cavi quindi sarà un cavo unico sono tutti i cavi che si trovano tranquillamente su amazon e costano pochi euro vi lascio qua sotto comunque il link in descrizione anche di questi quindi ragazzi direi che abbiamo parlato fin troppo adesso è arrivato il momento però di vedere in azione lui il carlink kit hdmi adapter quindi per prima cosa colleghiamo la presa usb del nostro dispositivo hdmi adapter dopo di che ci chiederà se vogliamo utilizzare android auto io faccio no perché voglio utilizzare apple carplay quindi vado a selezionare apple carplay ed ecco che siamo già nel sistema operativo del nostro hdmi adapter quindi adesso non ci resta che entrare nelle impostazioni e andare a configurare se vogliamo le poche impostazioni disponibili quindi a questo punto non ci resta che tornare indietro da questa schermata e andare a collegare il mio iphone 15 pro vado a collegare la presa al mio telefono e guardate in pochi secondi cosa apparirà qua nello schermo ed ecco qua il mio iphone vedete che veramente in un attimo ho il dispositivo connesso adesso se io vado a vedete come è reattivo perché tutto collegato via cavo quindi ho la duplicazione del mio telefono all'interno del sistema multimediale della mia auto quindi posso usare qualsiasi cosa che ho nel telefono la potrò visualizzare nel sistema multimediale della mia auto nel mio schermo touch quindi arrivati a questo punto direi di provare le applicazioni video che sono secondo me la cosa più diciamo sensata da utilizzare con questo tipo di adattatore entriamo in una delle applicazioni che possiamo utilizzare per esempio rai play ok andiamo a far partire una diretta per esempio rai 1 ok ed ecco qua che abbiamo il telegiornale adesso posso alzare il volume per farvi sentire l'audio ed ecco qua ragazzi il telegiornale che c'è adesso in diretta su rai 1 lo posso vedere nel sistema multimediale della mia auto e poi anche tutto quello che c'è ovviamente all'interno dell'applicazione rai play adesso esco dall'applicazione rai play e provo aprirne un altro proviamo prime video giusto per farvi vedere con quali funziona ok quindi vado a far partire qualcosa a caso giusto per avere l'idea vado a fare riproduci adesso c'è la pubblicità però vedete che già operativo posso andare a ingrandirlo a tutto schermo ed eccolo qua ragazzi fantastico è fantastico veramente è incredibile quello che riusciamo a fare con questo adattatore che poi non ha neanche una cifra folle perché come vi ho detto costa 85 dollari ma con il coupon sconto che trovate in descrizione abbassate il prezzo di 30 dollari vedete che abbiamo la pubblicità di amazon prime poi dopo ovviamente tra quattro secondi partirà quello che ho voluto far partire io come contenuto usciamo anche da questa applicazione vi faccio vedere che funziona anche con apple tv quindi vado a farla partire facciamo partire una puntata a caso riprendi la puntata ed ecco qua ragazzi che è partita anche la puntata di apple tv cioè anche loro sono applicazioni anche questa è un'applicazione totalmente compatibile stessa cosa con discovery infatti anche questa applicazione funziona riesce a trasmettere i contenuti senza nessunissimo problema non li va a bloccare adesso non fate caso ai colori che non sono reali perché comunque la telecamera sta prendendo una luce strana che arriva dai finestrini quindi bisognerebbe essere al buio per vedere i colori reali e quindi non fate caso a quello che sono i colori in realtà sono molto molto reali e quindi vado a far partire qualcosa anche qua giusto per farvi vedere ed ecco qua che è partito anche il contenuto per quanto riguarda l'applicazione discovery vedete che è una figata incredibile adesso veniamo però alle note dolenti le note dolenti sono per esempio now che se io vado a far partire qualcosa da now sebbene io ho l'abbonamento di now non posso trasmetterlo adesso vi faccio vedere l'applicazione si vede ma quando vado a far partire un contenuto vedete streaming non supportato con la registrazione dello schermo attiva si prega disattivare la registrazione dello schermo per quanto riguarda ma io non sto registrando lo schermo del telefono ci dispiace ma la versione di now tramite hdma dal tuo dispositivo non è supportata c'è altri modi per vedere now in televisione vedete che now non supporta la possibilità di condividere lo smartphone su un televisore o su un qualsiasi altro schermo come in questo caso quello dell'auto mentre per quanto riguarda netflix se io vado a fare riproduci vedete impossibile riprodurre il video lo schermo connesso non è supportato in questo caso non è bloccato il quello che è lo streaming ma il mio schermo non supporta quello che viene trasmesso da netflix a livello di tipologia di streaming video qui a livello di schermo di questo display non viene supportato questo è una cosa diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima perché poi se noi andiamo a vedere e guardiamo le anteprime le anteprime si vedono adesso vi faccio vedere perché comunque non viene riprodotto nello stesso modo ovviamente il video quindi adesso vi faccio vedere un'anteprima vedete che qua appare la puntata dei big bang teori anche se non la sto riproducendo a schermo intero quindi se la vedo così funziona se vado a fare riproduci quindi la dovrei vedere a schermo intero abbiamo questo errore almeno nel mio schermo ma questo è dovuto allo schermo della mia auto che non supporta questa qualità video l'ultima cosa che volevo farvi vedere invece è youtube è quella ovviamente funziona senza nessun problema andiamo nei miei video ed ecco ragazzi che parte senza nessunissimo problema vado ad alzare l'audio così potete sentire che l'audio c'è e vedete ragazzi che spettacolo è veramente veramente uno spettacolo quello che riusciamo a trasmettere è veramente pazzesco perché viene trasmesso poi tutto con una fluidità incredibile perché 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 passa tutto ovviamente attraverso il cavo che rende veramente tutto super fluido e senza nessun rallentamento quindi ragazzi avete visto che figata incredibile che questo piccolo dispositivo della carlink kit l'hdmi adapter un dispositivo veramente piccolissimo leggerissimo sembra quasi un giocattolino ma lui è in grado di trasmettere come avete visto qualsiasi fonte con l'uscita hdmi nel dispositivo multimediale della nostra auto sì perché praticamente quasi tutti i dispositivi android hanno l'uscita hdmi quindi andandolo a collegare qua lo vedrete nel sistema multimediale della vostra auto se e ripeto se il sistema multimediale della vostra auto è già compatibile di fabbrica con apple carplay android auto quindi se avete il sistema multimediale che non è compatibile con apple carplay o android auto non acquistate questo dispositivo perché comunque non funzionerà deve essere la vostra auto già predisposta per questi due sistemi quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato questa recensione questa prova di questa novità della carlink kit l'hdmi adapter vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale tantissime anche altre cose riguardante il mondo dei videogiochi e simulazione arrivano su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostegno di questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale seguitemi anche sul canale telegram usati poco da un nerd e mezzo lì invece troverete i prodotti che recensisco che poi ovviamente non posso tenere tutto e lì li trovate a prezzi veramente pazzeschi e utilizzati praticamente pochissimo pochissimo solo per le recensioni ma dopo tutto questo mi raccomando ragazzi la cosa più importante iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità ciao e al prossimo video ciao